Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui per una recensione di zombie omg Gioco niga Con questa musica Yeah, yeah, oh 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 E niente signori Vediamo subito questo gioco com'è La prima volta che lo gioco Come vedete C'è manco il salvataggio Quindi dottore Chi è il nostro oggetto di esame oggi? Beh Questo fumettato è carino Bella idea Andiamo avanti Spero che non sia tutto così il gioco Possiamo giocare Dai, intanto sarà un gioco spacca tutto Sicuramente E spaccheremo tutto Yeah No, ma come? Ah Che si fa? The beginning Ma che cazzo Forse devo leggere quello che sa Wow, un gioco fantastico Ma che cazzo mi fa Molto bello In play è vincente Sto divertendo Oh Ho andato alcune monete che adesso posso spendere per migliorare gli zombie Visto Vabbè 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 Che si fa? Mille dollari Grazie Va bene Livello 2 Wow Questo gioco è fantastico Vi accordo Compratelo Guarda che divertimento Vabbè Vi ho cliccato una volta Ma tipo Se io clicco Quelli poi sparano a lato Poi quegli altri Sparano a loro Volta È un po' rompipale Da fare È un po' rompipale Da giocare così Boh Un altro livello fatto Complimenti Yeah Che cavolo Vediamo che succede Oh Spara Ah ma io sono quello La centrale Che devo fare Ma what What Ma questo lo devi fare Aspetta Eh sì Me lo fai rifare però Bravo Più io sono quello lì Centrale Secondo me Devo sparare a questo Beh Oh Eh Sono Ma Scusami Ma un colpo Non basta più Ora inizio A non capirlo Sì ma sto Che play Che palle Ma se li sparo in testa Ma what Quindi forse devo sparare in testa Mi stai dicendo No Un camion Forse potrei con lì Con meno vita Ecco Vedi quella lì Correre Questa qui Questa qui Corre Eh Ah dai Sono iniziando a capire Allora Quei ciccioni lì tipo esplodono Questa qui corre Quindi io solo la sparo Corre E prendo anche quell'altra che corre Però è un benutile C'è uno ciccione Con poca cavità Qua in mezzo Bim Ha preso i pochini E quest'altro ciccione qua No eh Cazzo è difficile Devo analizzare bene Allora Devo aspettare anche il momento opportuno Tipo adesso Bim Eh dai Adesso Già Meglio di prima Vediamo questa Cazzo è infagliato E questo qua Oh Dai Almeno il 50% L'ho preso E porca puttana Cioè praticamente Devo innescare Una reazione a catena Eh Già adesso No Peccato Quindi se io speravo a quello C'era tutto quel macer Ehm Vediamo No qui Qua è tipo questa Fai esplodere quello ciccione Eh Dovevo spararlo prima Dovevo spararlo prima No 45 Non posso andare avanti Tipo Oh my god Questo qua cosa fa? Ah Oh fuck Questo qua è utilissimo Così No 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 E come spara a caso? Queste qua cosa fanno? Mmm Vabbè E proviamoci Abbiamo capito Che questo qui Si inclina Aspiriamo che spara Dalla parte Giusta Perfetta Dai Spaticamente Il gioco Ed enigma Bisogna risolvere Questi enigmi E capire Tipo dai Dai Adesso devo fare una strada Per forza Di cose Eh Guarda Questo colpo è stato Stato da paura Perfetto Mmm Oh Lasciamo stare Che ci sono Gli zombie Che stanno In 3 miliardi Di giochi Però questo è diverso Dagli altri No 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 Dai vabbè 50% L'ho fatto solo Con primo tiro Eh Nice Vabbè ma come cazzo Si va sopra Qui Ehm Livello 10 Allora questo qua Cosa che faceva? Spara Che cazzo Fa questo? Si scioglie No Vabbè si scioglie E che fa? Si sciolgono tutti Mmm E questo? E che cazzo Tutti si scioglono? Vabbè Non ho fatto niente Praticamente Riproviamoci Allora abbiamo Quello là si scioglie Questo col ciccione Che scoppia Adesso vai Sciogliere tutti Questa ciccione Che scoppia di nuovo Adesso Succede un casino No? Benissimo E questo perché non si scioglie? Eh Bravo Un altro ciccione qui Vai ciccione Vabbè anche tu Divisco il guerra Beh oh Dai Fidi così Spesso che fare il 100% Deve essere impossibile Mamma mia Mi affre Ma perché vanno così i livelli? Tipo perché 10-17 Non lo so Quindi qua ci sono in totale 60 zombetti Madonna cara Boh Qua farò qualche macerio Madonna Attenzione Il tiro Degno E qua E qua E qua E qua stanno tutti vicini Dai Non è valido E infatti pure pochi Per quanto stavano vicini Eh dai Adesso che avrò fatto Tipo il 60 Meno il 60% Dai me lo dovete dare Almeno Ho un'altra colpa? No Beh allora dai Eh E ho 60 preciso Mamma mia Che calcolo Ah è vero che posso anche comprare gli upgrade Mi davo gli upgrade Cazzo Non mi dire che Ok Non male Load save No No Voglio vedere gli upgrade Sinceramente Extra Comic Credit Prestigio Load save Boh Diceva che potevo comprare gli upgrade Del 26 Vai Proviamo Poliziotto No Ma che Stupido Ned Flanders Che cacchio Ma che cosa fa quello Boh I ciccioni sono Madonna Guarda un po' Guarda guarda Beh voglio dire che questo gioco Non è così brutto Come pensavo all'inizio Eh anzi E' carino Lo avrò fatti fuori 26 se non mi sbaglio Peccato Il primo tiro poteva andare meglio Il secondo tiro poteva andare meglio Eh io lo rifaccio dai Vediamo se Se mi va meglio Poliziotto Non ho capito cosa fa Ma spara E poi si sparano tutti Guarda che tirone Guarda Pure questo lato ho preso Questo tiro faccio al 100% quasi No perché questo lato non lo prendo Però Che posto Bananoman qua Che si Si scioglie Che questi qua si scioglono Ciccione qua Adesso Dimmi che fai esplodere anche il poliziotto Perfetto Ho preso anche qui Ho preso lì Basta Dai Forse è andato Sicuramente è andato prima Meglio di prima Forse ho fatto l'85% Vabbè No adesso c'è il 38 Facciamo che è il 37 Vai spara 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 No 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 Parasmo Parasmo Pag Vabbè Oh già finito No devo rifarlo Quindi è tutta una reazione a catena Cosa fa che i ciccioli sono la chiave Che è successo Più o meno Andiamo adesso con questo Forse riesca a fare qualcosino Nooo Ma l'ho mancato Non così Oddio è scoppiato Così ho qua con l'esplosivo Tipo Wow Ma questo è difficile 8 Teniamo così Ah quindi non ha range infinito Ecco mi sembrava strano Ma boh dai Adesso riesci a fare un buon Qualcosa di buono Perfetto Ho preso un cicciole Vai Esplodi No 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 47 Annaggia Vediamo se c'è un ciccione E quelli Si mordi da queste parti Ah cambiano pure Da un livello all'altro Sembra giusto Oh affan cuore però Puoi scoppiare Eh Perché no No Questo è proprio andato di merda Eh vediamo 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 se questa cosa combina Cosa di più Mmm Ma che se non credo che Sia possibile fare i livelli Con una certa logica Eh perché ci sono troppe variabili Da dover calcolare Mmm Quindi Non so Eh vabbè dai un 50% Probabilmente ne è tutto Che cavolo fa questo Vai Quando mi piacciono quelli Quei proiettili Fanno un casino Va Ma come ho fatto a mancarlo Questi sono militari Quindi Questo adesso come spara Ah questa qua c'è la granata Che non esplode Oh esplodi Beh Lo vedo Sta qua la granata Vabbè Ah Rifacciamolo Delusissimo Da questo Livello Da come esce Oh ma perché A certe volte non esplodono What's the shame you heard Mmm Ma what Again Try again No eh Dai e dai No ma porca Porca vacca No vabbè ma Vabbè Alla fine credo che il gameplay Di questo gioco sia chiaro Quindi Non c'è molto da dire Penso che il video possa Possa finire qui Grazie dell'attenzione Spero che il gioco vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Tranquillamente acquistabile Su Steam O da qualsiasi altro Negozio di chiavi Alla prossima Alla prossima